ciao sono cristian cassina titolare di noratech di questo asus gold store il mio soprannome in internet o nickname nei forum e vaccaro di mezzanotte ho sempre avuto la passione per l'informatica ce l'ho da quando sono un bambino quando sei anni ho visto per la prima volta un computer ho detto io voglio fare quella cosa lì un asus gold store è un atelier dell'informatica quindi non un semplice negozio di informatica ma un posto dove posso toccare con mano il computer quello che mi serve capire effettivamente quali sono le mie esigenze avere qualcuno che mi guida nell'esperienza di acquisto di configurazione e di utilizzo del mio computer la tecnologia non è solamente un freddo strumento ma è qualcosa che permette di abbattere i muri di ripensare il modo di lavorare e ripensare in alcuni casi anche il modo di interagire con le persone alle quali vogliamo bene qui troverete sempre un sorriso personale competente e appassionato che vi può seguire che siate un professionista un'azienda un gamer come me